...che sicuramente si è notato, si vende un po' sforato, ma anche ragazzi, anche prevedere, riusciamo a dare un po' per provare, anche questa, che si scelterà con una marcia e potremmo dire che voi non riconoscerà con gli applausi di mattina, come nella sala dell'antimità che si va a parlare.